A gennaio 2024 c'è una grande novità per la prima volta su Sky tutti i tornei ATP e WTA Benvenuti sulla capa centrale di Indian Wells Ben ritrovati al Foro Italico Non li perderai più di vista in ogni torneo ATP e WTA Poi Wimbledon, Coppa Davis e su Eurosport Australian Open Air Roland Garros Solo su Sky il grande tennis gioca tutto l'anno